Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power, proseguono le presentazioni dei nostri nuovi processori di undicesima generazione e a questo giro vi parleremo dell'Intel Core i5-11600K. Vediamolo subito insieme. Prima però vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. Oggetto della nostra recensione sarà il nuovo Core i5-11600K, modello da 6 core, 12 thrift, con boost a 4,9 GHz, che come altri modelli serie K del produttore, offre il moltiplicatore di clock sbloccato con un TDP di 12 Watt e una buona propensione per l'overclock. Con questo processore troveremo delle vecchie caratteristiche tratte dai precedenti modelli e allo stesso tempo diverse novità sempre gradite. La nuova architettura, la GPU integrata a Intel X6 e anche un nuovo controller di memoria, oltre alle opzioni avanzate per l'overclock, è una tanto atteso supporto dello standard PCIe 4.0. Attenzione però perché questa CPU non ha il Thermal Velocity Boost esclusivo della gamma Core i9, né il Turbo Boost Max 3.0 presente solamente sui modelli Core i9 e Core i7. Questo processore monta sul socket 1200 e se siete in possesso di una scheda madre di fascia alta con chipset serie 400 potrete abbinarla ai nuovi processori senza problemi, purché installiate prima la giusta versione del BIOS. La retrocompatibilità ha però delle limitazioni da tenere bene in mente. I processori Rocket Lake possono essere installati solamente su schede madri con chipset Z490, H470, mentre i Comet Lake Refresh sono compatibili con tutti i chipset della serie 400, compresi i B460 e l'H410. Il Core i5 ha ottenuto un punteggio impressionante in molte esecuzioni single core che avevamo visto come fordito Ryzen 5 5600X i6 core, 12 thrift e si fa valere anche contro la generazione precedente. I risultati di gioco sono stati un po' altalenanti rispetto alla concorrenza e l'aggiornamento della piattaforma in questo potrebbe essere un onere di ingresso troppo costoso per alcuni acquirenti di componenti di fascia media. Abbiamo effettuato vari test integrandola alla nostra scheda GeForce RTX 2080 e una motherboard Z590, con 16 GB di RAM a 3000 MHz. In questi test il Core i5 è competitivo con AMD ma perde ancora nella maggior parte delle battaglie testa a testa contro il Ryzen 5 5600X. L'Inter Core i5 ha invece un punteggio abbastanza vicino al Ryzen 7 5800X su titoli più vecchi o AAA come Farcray 5. Il Core i5 si trova a una distanza abbastanza vicina dal Ryzen 5 5600X da trasformare il rapporto prezzo prestazioni a suo favore. Questo è il primo processore Intel ad essere effettivamente rimasto competitivo con AMD in termini di prezzo da un po' di tempo. Tra l'altro come molti altri chip nello stack Intel di undicesima generazione il Core i5 11600K include un nuovo processore grafico integrato IGP Intel UHD Graphics 750. Ci teniamo ad avvisarvi di una cosa ovvero che Intel non ha intenzione di includere un dispositivo di raffreddamento in bundle con il Core i5 11600K. Questa è una mancanza essendo sia una CPU con IGP che un'opzione di fascia media che potrebbe fornire una base per gli aggiornamenti successivi. L'Intel Core i5 11600K sarebbe a nostro avviso meglio servito in bundle con un dispositivo di raffreddamento. Stiamo quindi parlando di un processore che nonostante la miriade di rivali pronti a competere in questo campo riesce a darci ottime prestazioni e a tenere la testa alta in molte situazioni. Se state aspettando di aggiornare una CPU Intel di fascia media di vecchia generazione il Core i5 11600K è una scelta da prendere in considerazione. Potete trovare l'Intel Core i5 11600K su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere un mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Ciao a tutti!